Noi lottiamo per una cosa che deve venire, e non può non venire. Io queste cose le so, ne sento, ma non te le so spiegare. Ma io credo che sia così, che non dobbiamo aver paura, né oggi, né in avvenire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo e lo vedremo molto meglio. E soprattutto lo vedremo i nostri figli. E tornerà pure la primavera. Grazie a tutti.